Ok, allora riprendendo il punto in cui eravamo arrivati, dobbiamo gestire l'ingresso, se vogliamo fare riferimento al nostro diagramma statico, adesso non c'è più, ma eccolo qua, dobbiamo gestire, abbiamo gestito l'arrivo, arrival, che è un evento nuovo che non c'era in questo diagramma, abbiamo gestito quindi lo stato new, la triage verso waiting, verso waiting giallo verso rosso, abbiamo gestito i time out di uscita, il time out di aggravamento e il time out di morte. Ok? Quindi ci rimane da gestire essenzialmente tutto ciò che sta intorno a questo stato di treating, che è lo stato di cura. Come ci entro e come ci esco? Beh, come ci esco è semplicissimo, basta un time out rispetto al momento in cui sono entrato, ci sarà l'evento che avevamo chiamato treated, se non sbaglio, cioè per guarito. Come ci entro invece è un pochino più complicato, perché per entrarci, quando ci entra qualcuno, beh, ci entra qualcuno quando uno studio si libera, e chi entra? Beh, chi entra è la persona che ha più diritto di entrare, cioè colui che pur essendo in lista d'attesa col colore più grave, è in attesa con quel colore da più tempo. Ok? Allora questo dobbiamo gestirlo, nel senso che qua in free studio La prima cosa che dobbiamo fare è scegliere quale paziente ha diritto di entrare. Allora, devo scegliere tra tutti i pazienti che attualmente sono in lista d'attesa quello che è più grave. Allora, io come posso fare a far questo? Vabbè, io potrei semplicemente andare a prendere la lista dei pazienti che ho qui, this.patients, me li scorro, vado a vedere, ok, ci sono dei rossi, andiamo a prendere i rossi, qual è il rosso che è presente da più tempo? Altrimenti vado a vedere i bianchi, cioè i gialli, altrimenti vado a vedere i bianchi. Ok? Questa operazione è un'operazione che ha almeno complessità ODN, cioè mi devo scandire tutti i pazienti presenti nel sistema per capire alcuni saranno in lista d'attesa, altri invece sono in altre zone, sono in new, sono in out, eccetera. E poi devo riuscire a applicare la logica di priorità, quindi prima cerco i rossi, poi a parità di rossi cerco il tempo, eccetera, eccetera. Questa stessa cosa in realtà lo posso fare, lo posso far fare a una cosa prioritaria a questo lavoro. Cioè posso benissimo gestirmi una seconda struttura dati, parallela, in cui metterò solo ed esclusivamente i pazienti che sono nella lista d'attesa, che memorizzerò in parallelo a quella dei pazienti. Quindi la chiamo Private Priority Queue di Patient, questa volta, e la chiamo Waiting List, Waiting Room diciamo, perché non è una lista, è una waiting room. In questa lista ci vado a mettere, contiene, solo i pazienti in lista d'attesa, in attesa. Quindi negli stati che sono white, yellow e red. Quindi, ogni qualvolta inserisco un paziente in lista d'attesa, lo devo infilare nella Priority Queue. Ogni volta che un paziente diventa white, diventa yellow o diventa red, lo devo inserire nella lista prioritaria. Così, quando si libera uno studio, basta che io prenda il primo dell'accordo prioritaria, poi dobbiamo ragionare la sua priorità, ovviamente, e prendo il primo dell'accordo prioritaria e so che è lui che deve entrare. Quindi, quando è che lo inserisco nella coda prioritaria? Abbiamo detto, quando diventa white o yellow o red. E quando è che lo diventa? Al triage. Al triage. Dove è andato il triage? Aspetta, sono nella process event. Quindi, non solo, qui ci devo mettere la parente di graffe, Non solo, quando inserisco un bianco o lo inserisco nella coda degli eventi, ma dovrò anche inserirlo il paziente, non Q, ma waiting room, punto add del paziente P. Quindi, idem, quando ho un giallo, chiusa graffa, e qui ne vorrò aggiungere alla waiting room, else, stessa cosa, quando ho un rosso, vabbè, potevo scrivere una volta solo, in realtà, senza doverlo copiare tre volte, ma così è meno chiaro che cosa succede in ciascuno dei tre casi. Lo inserisco nella waiting room. Attenzione, c'è anche... Sì, però magari ti metto muto. C'è un altro punto in cui inseriamo dei pazienti in lista d'attesa, che è il time out del giallo. Dove era finito? Time out giallo, ecco, qua aggiungevamo un utente, creavamo un nuovo utente inserendo un paziente nella coda dei gialli. Quindi in questo caso dovrò reinserire lo stesso paziente sotto forma di rosso. E questo è un po' un pasticcio. Allora, il pasticcio qual è? È che noi avevamo già un paziente che era in lista d'attesa col codice giallo. Poi a quel paziente ho cambiato il colore. Cambiare il colore a un paziente che è già in lista d'attesa, in qualche modo gli fa cambiare la sua priorità. Gli deve far cambiare la priorità, lo deve far passare avanti nella lista d'attesa. Però la priority queue, questa operazione non la fa, non la sa fare. Quindi se io ho un elemento che devo spostare, devo cambiare la priorità di quell'elemento, ciò che devo fare è toglierlo e reinserirlo. Quindi dovrò prendere, prima di cambiargli il colore, devo prendere quell'elemento e toglierlo dalla waiting room. Era in waiting room, perché sono in time out yellow, quindi di sicuro c'era. Lo devo togliere, this.waitingroom.remove. Ricordiamoci che la priorità di queue è una collection, quindi tutti i metodi che già conosciamo sulle collection ci sono. Remove l'oggetto P. E poi gli cambio colore e poi lo reinserisco. This.waitingroom.addP. Poiché P nel frattempo è cambiato, quando faccio l'add andrà a finire in un posto diverso rispetto a prima. Non basta cambiare il colore perché l'elemento si sposti di priorità. E adesso un attimo, la priorità dobbiamo ancora calcolarla. C'è due domande valide nella chat. Alessandro mi dice, dov'è che crei la waiting room? E certo, non l'ho fatto. Non l'ho ancora creata, dovevo crearla nell'init. Quindi nell'init, quando creo patients, devo anche creare la waiting room. Waiting room, grazie mi avete risparmiato un null pointer exception. New priority queue di pazienti. La domanda di Enrico, se mi dice, ma allora sto patients qua non serve a niente? Può darsi, non lo so. Aspettiamo di implementare tutto. Magari alla fine ci accorgiamo che non serve a niente e allora la cancelliamo. Per ora ci abbiamo inserito dentro tutti i pazienti. Se alla fine ci accorgiamo che non ci serve, perché in realtà il modo in cui ci sarebbe servita l'abbiamo sostituito da una priority queue dove faccio le stesse operazioni in modo più efficace, allora la cancelliamo. Io prima di cancellarla aspetterei di finire l'esercizio. Poi può benissimo darsi che non serve a più. Questo non te lo so dire. Sto ragionando insieme a voi. Giovanni mi chiede se nel default non serve un break. Il break è l'ultima. Dunque il default dove era qua. Non serve un break perché in realtà ho la parente di graffa di chiusura. Quindi è già un break automatico, implicito. Il break serve perché, se ricordate la sintesi del case, il case arriva dal linguaggio C e è una schifezza. Se io non mettessi questo break, lui esegue, nel caso di quello, queste istruzioni e poi continuerebbe a eseguire quelle successive. Cioè non c'è una aperta e chiusa graffa negli singoli case dell'istruzione switch, che è una schifezza perché ha una sintassi completamente diversa rispetto al resto del linguaggio. E allora questo break è una sorta di chiusa graffa che si aprirebbe virtualmente col case. Visto che qua in fondo non c'è niente dopo, c'è un chiusa graffa, mi chiude l'intero switch e quindi non serve nulla. La posso mettere ovviamente, ma non mi cambia nulla. E questo è anche il motivo perché il default lo metto sempre per ultimo. Se non cado in nessun caso i precedenti, cado nel default. Ok, quindi noi abbiamo fatto però un paio di operazioni, faccio ancora una su questa priority queue, che a questo punto mi risolve il caso del free studio. Quale paziente ha diritto di entrare? Ebbè quello che ha priorità più alta nella waiting room. Quindi noi abbiamo il nostro patient p, patient, lo chiamiamo, diciamo così, primo, e semplicemente this.waitingroom.pol Prendi il primo che c'è nella lista d'attesa. Ricordiamoci, poll, in questo caso, ritorna null se la coda è vuota. Ok, quindi non genera nessuna eccezione. Dobbiamo ricordarci che la coda potrebbe essere vuota. Magari non c'è nessuno, quindi lo studio libero dice, guarda, io sono libero, guarda, in lista d'attesa, in sala d'attesa non c'è nessuno. E vabbè, allora vado a prendermi un caffè o a fumarmi una sigaretta, quello che, diciamo così, è il vostro riempitivo di tempo preferito. Quindi dovrò chiedermi, if primo diverso da null, allora ammetti il paziente nello studio, e poi lo gestiamo. Ok. Ci sono Alessandro, mi sta citando un po' di casi particolari, rimuovere della waiting room anche nei casi red e white. Si, hai ragione, hai ragione, perché sta dicendo, nel caso in cui l'utente vada a casa, lo tolgo dalla lista d'attesa, giustamente. E quindi potrei fare un remove this.waitingroom.remove.dp Qui ho due possibilità. Una è dire, teniamo la lista d'attesa curata. Se uno mi muore, lo tolgo dalla lista d'attesa. Se uno va a casa, lo tolgo dalla lista d'attesa. L'altra possibilità potrebbe essere, vabbè, lasciamo la lista d'attesa, poi quando toccherà il primo e se mi salta fuori un utente che ha un codice che non è più, cioè magari quando prendo il primo e mi dà il codice black, lo butto via e ne prendo un altro. Chiaramente è una soluzione che magari operativamente funziona, ma è un pochino più sporca. mentre, giustamente, Alessandro dice, se io so che una persona in qualche modo ha riscattato il timeout, lo devo comunque togliere dalla lista d'attesa. Poi magari lo reinserisco con un codice diverso, ma comunque lo devo togliere, e su questo sono perfettamente d'accordo. È molto più pulito rispetto a gestirlo con casi particolari, come in qualche modo avevo in mente io. Ok. Quindi noi abbiamo questa cosa prioritaria, in cui, beh, normalmente aggiungiamo con add e togliamo con poll, come con tutte le cose prioritarie, poi abbiamo fatto un remove, e sono tutte operazioni che in realtà con il nostro oggetto patient non potrei ancora fare. Perché? Perché affinché queste operazioni siano possibili, io devo a patient aggiungere almeno i metodi equals hashcode per fare remove, e per poter trovare l'elemento, eliminarlo e compare to, per poterlo inserire nella coda prioritaria. Ok? E allora dobbiamo farlo. Allora, equals hashcode è facile, nel senso che, nel senso che, aggiungiamo equals hashcode sulla base del tempo d'arrivo, per il momento, è l'unico campo univoco, perché noi sappiamo che gli utenti arrivano in istanti di tempo diversi. Qui veramente mi verrebbe voglia di aggiungere veramente un numero progressivo che si incrementa ogni volta, perché così lo uso come hashcode e come criterio di uguaglianza, perché se io metto il criterio di uguaglianza sulla arrival time, non riesco più a gestire il fatto che gli utenti arrivino nello stesso momento. Ok? Quindi, lo farei, quindi aggiungerei un altro campo numero, o diciamo così, num, e quindi vorrà dire che anche il costruttore dovrà avere un numero progressivo, int num, dis.num uguale num, e dove creo i pazienti, che è solamente nel metodo init, in quel ciclo incremento un numeretto, così ogni volta me lo vado a stampare. Ok? L'avevamo già visto prima che ci piaceva, ci sarebbe piaciuto avere un numerino per la toString, quindi poi rigeneriamo anche la toString. Quindi aggiungiamo il metodo init, dove avevamo nel metodo init la creazione del paziente, avevamo inseriti uguale 0, guarda che ce l'abbiamo già con il numeretto che ci serve, quindi new patient, inseriti, ora, colorcode.new. Quindi, semplicemente ho aggiunto dentro patient un intero che di fatto ha il suo codice univoco, diciamo così, non ti do solamente un colore, ma ti do anche un numeretto. Bene, questo numeretto non è il numeretto con cui sarai chiamato, non è il numeretto del macellaio che ti chiamano in ordine, ma è semplicemente per distinguerti dagli altri. Torno su patient, riinserisco il toString, questa volta anche con il numero, così lo vediamo nei nostri log. Lo stampiamo, dov'è che mi dice aggiungilo in fondo, eccolo qua, in fondo. Ok, allora, patient per rispondere sia a Lorenzo che a Michele, che mi chiedono ma perché vuoi fare scode equals e un attimo com'è sta cosa qua della priorità? Allora, noi abbiamo questo oggetto che vogliamo inserire in una collection. In questa collection vogliamo anche aggiungere ed eliminare soprattutto il metodo nel simulator a un certo punto abbiamo fatto remove. Remove è un metodo dove cerchiamo remove è un metodo di tutte le collection che cerca un oggetto all'interno di una collection e cancella quell'oggetto dalla collection stessa. Io gli passo un riferimento a un oggetto e lui mi deve trovare dentro la collection un oggetto identico a quello o esattamente lo stesso oggetto oppure un oggetto identico a quello. Allora, affinché la remove funzioni è necessario che sulla classe di questo tipo di oggetti io definisca la nozione di uguaglianza cioè quando è che un oggetto è uguale a un altro perché altrimenti lui non può fare una remove di un oggetto se non sa come fare a confrontare due oggetti. Ok? Quindi ogni volta che io devo inserire un elemento lo sappiamo già in un hash table in una in una mappa eccetera eccetera dovrò ma anche quando dovrò fare degli argomenti di ordinamento ogni volta che che ho bisogno di sapere se due oggetti sono uguali o no dovrò definire hash code equals per quegli oggetti questo sempre e quindi questo lo faccio facilmente e dovrò avere un campo che mi permetta un campo un piccolo insieme di campi che mi permettono di dire considera identici due oggetti se il loro attributo num è uguale e gli altri attributi non mi interessano ma anche perché ad esempio il colore è un attributo che può cambiare durante la vita dell'oggetto e quindi non ha senso dire ok quel paziente se cambia colore diventa un paziente diverso è sempre lui quindi l'uguaglianza di un paziente con se stesso non dipende dal colore dipende solamente dal numero che gli ho assegnato e quindi aggiungo hash code equals così il remove funziona essenzialmente ho introdotto il discorso dell'hash code equals quando mi sono accorto che mi serviva il metodo remove il metodo remove richiede di sapere come confrontare gli oggetti tra di loro e poi invece visto che sto usando patient anche dentro una cosa prioritaria devo definire la priorità quindi anche qua devo implementare l'interfaccia comparable di patient e implementare chiaramente il metodo compare to il metodo compare to questo qua non è non è banale perché è il criterio con cui dico se un paziente ha priorità maggiore di un altro ok quindi è un metodo Lorenzo non ho dimenticato la tua domanda ci sto arrivando il metodo che mi deve restituire un valore negativo se io ho due pazienti this e other allora mi chiedo ma tra this e other chi deve passare prima se passa prima this devo restituire un numero negativo se passa prima other devo restituire un numero positivo se dovessero passare insieme restituiscono un numero zero ok è un comparatore dove il criterio di confronto è proprio chi deve passare prima quindi è qua in questo metodo qui che ci sta tutta la logica della sala d'attesa ci sta il criterio con cui funziona la sala d'attesa e qual è il criterio della sala d'attesa dice se avete lo stesso colore andiamo a vedere chi è arrivato prima se avete colore diversi allora vince il colore ok quindi se il colore di se il colore di this punto colore è uguale al colore dell'altro other punto colore allora il confronto dipende solamente dal tempo d'arrivo e quindi posso delegare al comparatore del tempo d'arrivo this punto arrival time punto compare to other punto arrival time qui queste due righe dicono se abbiamo lo stesso colore equals non è quale se abbiamo lo stesso colore allora vince chi è arrivato prima altrimenti vado a vedere se uno dei due è rosso vince il rosso lo posso implementare così if this punto color equals a patient punto color code punto red allora if scusate manca una if non ho capito l'errore if this punto color allora vince this quindi restituisco qualunque numero negativo ad esempio meno uno altrimenti adesso vado a vedere se l'other è rosso if other punto color punto equals patient punto color code punto red allora vince l'altro return più uno ad esempio ok se uno è rosso allora innanzitutto se uno è rosso l'altro non può essere rosso perché altrimenti l'avremo già catturato nel primo caso quindi vuol dire che dopo il primo caso sono sicuro che hanno colori diversi se uno dei due è rosso tocca a lui passati questi due casi vuol dire che non ci sono rossi e non ci sono colori uguali quindi vuol dire per forza che c'è un giallo e un bianco se non mi sono perso dei casi se sono uguali passo qui esco da qua da questo return se non esco da questo return vuol dire che non erano uguali quindi erano diversi ok può darsi che uno dei due sia rosso se è rosso il primo esco da qua dicendo passa prima this se invece è rosso l'altro passo di qua dicendo ritorno un numero positivo quindi passa prima other a questo punto ho solamente più il caso in cui ci siano giallo e bianco oppure bianco e c'è giallo quindi se else scusate else if this punto color punto equals patient punto color code punto yellow allora vince this altrimenti eh qui vince l'altro quindi di fatto non c'è mai parità l'unico caso di parità sarebbe se per caso i colori fossero uguali e il tempo di arrivo fosse uguale allora a questo punto la coda prioritaria li tratta a pari merito in estrae uno dei due diciamo così in modo arbitrario ok quindi qua abbiamo detto vuol dire che sicuramente abbiamo yellow e white in quest'altro caso abbiamo white e yellow per forza per esclusione ehm Alessandro mi dice se ne ricordo il code degli enum posso estrare il valore sì c'è un metodo value of che mi permette di estrare il numero ehm e posso andare a vedere sì potrei anche fare questa operazione mi sembrerebbe poco leggibile onestamente ehm nel senso che queste enum in realtà valgono 0 1 2 3 0 vale new white vale 1 yellow vale 2 red vale 3 eccetera quindi potrei estrarre il valore di queste costanti mi pare che sia un metodo value of oppure get value che mi estrae il numero corrispondente e fare i confronti tra di essi con una sottrazione posso anche farlo però eh devo essere sicuro di aver scritto diciamo così i valori nell'ordine giusto eccetera ma sì si potrebbe fare io quando definisco delle costanti a questo punto preferisco trattarle come valori astratti ecco e non e non sfruttare il fatto che alla fine sono dei numeri interi ma è una questione di preferenza ok allora questa è la logica no con cui estraggo dalla dalla coda prioritaria per come funziona la coda prioritaria e finalmente arrivo a rispondere alla domanda di Lorenzo quando io inserisco un elemento nella coda la coda prioritaria di fatto è un albero in cui diciamo posiziona è un hip che è una sottoforma di albero posiziona l'elemento andandolo a confrontare con quelli già esistenti per cui capisce se deve metterlo prima o deve metterlo dopo o in mezzo agli elementi esistenti e lo fa ovviamente usando la compare to confrontandolo un po' con i vari elementi dell'albero questo compare to quindi la posizionamento finale dell'elemento nella coda prioritaria dipende sia dal tempo di arrivo che dal colore adesso l'abbiamo scritto lo vediamo ok ok e poi quando estrae estrae anche lì prendendo il primo elemento e poi risistemando l'albero sulla base dei confronti però voi immaginate che l'elemento sia certo posizionato in un certo punto dell'albero e poi gli cambiate il colore allora in realtà se quell'oggetto lì avesse un colore diverso non dovrebbe essere in quel punto dell'albero che dice in qualche modo implicitamente quando dovrà essere estratto l'albero dice quando dovrà essere estratto se io cambio all'interno di una coda prioritaria un attributo di un oggetto e quell'attributo ne determinava la posizione nella coda prioritaria quindi lo cambio dopo averlo inserito e sto rovinando il funzionamento della coda prioritaria perché la coda prioritaria a questo punto non mi darà più non si accorge non può sapere che io ho cambiato quell'attributo e quindi deve spostare quell'elemento all'interno dell'albero per mettere in una posizione più avvantaggiata più vicino all'uscita non lo sa da sola è un po' come se voi aveste un numero un vettore di interi lo ordinate in modo crescente poi cambiate un valore lì dentro e non è che si riordina da solo lo dovete riordinare voi nuovamente allora quell'operazione è ciò che abbiamo fatto qua io sto per cambiare il codice colore di un elemento e quindi cambio la sua posizione nella coda prioritaria e non lo posso fare è scorretto se andate a leggere il codice la documentazione priority code il priority queue vi dice che la posizione cioè la priorità degli elementi non deve cambiare finché gli elementi sono nella coda e allora la cosa più corretta è dire lo tolgo dalla coda lo butto via e poi cambio l'oggetto e lo reinserisco e quando lo reinserirò scusate era qua che lo inserivo sul caso yellow quando lo reinserisco lo reinserirò col nuovo valore quindi lui andrà a fare i confronti e posizionerà questo elemento su un ordine di uscita che è compatibile con il fatto che lui sia rosso adesso e non più giallo come paragonamentale fatevi quello del vettore di numeri se è un numero dal 1 al 10 poi il 5 lo trasforma in un 8 non è che si sposta da solo più avanti per mantenere il vettore ordinato lo devo fare io lo devo mantenere io ordinato ok e quindi evitare di modificare dei campi che ne determinano l'ordinamento lo riaggiungo allora poi andiamo in ordine Alessandro mi chiedeva vabbè ma finiamo sì Alessandro mi chiedeva nel primo else essendo dis maggiore di alta non dovrebbe fare return più 1 aspetto un attimo che non ho introdotto un baco nel primo else allora mi hai detto nel primo else quindi qua la riga 72 dis è minore dis è quello che deve passare per primo e quindi devo restituire restituire un valore negativo che la cosa prioritaria mi dà ogni volta il valore più piccolo quindi quello che compara minore quindi se io ritorno un valore negativo sto dicendo dis deve passare nel primo else dis non è maggiore di other dis è più importante più prioritario è più rosso di other dis è rosso e other non lo è quindi deve passare dis e quindi negativo ok io ho due elementi dis e other negativo dis positivo other non vorrei parlare in termini maggiore o minore perché sono dei colori non ha molto senso allora parlo chiedendomi quale deve uscire prima ok deve uscire prima quello rosso poi invece se il giallo e l'altro sicuramente è bianco deve uscire il giallo ok dovrebbe essere giusto poi George mi dice perché lo riaggiungiamo solo nel caso yellow perché yellow è l'unico caso in cui e questo ce l'avevo dove è finita ce l'avevamo nel nostro disegnino l'unico caso in cui il timeout mi fa transitare da uno stato della waiting room sempre a un altro stato della waiting room e quindi di fatto l'ho tolto dalla waiting room essendo giallo e l'ho reinserito essendo rosso negli altri casi se è bianco esce perché va a casa oppure se è rosso esce perché è morto ma in ogni caso non sta tornando nella waiting room ok quindi quello è l'unico caso in cui c'è questa complicazione ok cosa ci manca ancora abbiamo gestito l'inserimento nella coda quando ogni volta entro nella waiting room l'estrazione della coda nel caso del poll ecco adesso andiamo avanti dal punto in cui eravamo partiti dobbiamo implementare free studio abbiamo fatto una grossa parentesi per riuscire a gestire la coda prioritaria che mi permette semplicemente di dire il primo paziente sarà questo quindi se c'è effettivamente un primo paziente lo metti nello studio quindi so chi è il primo paziente dirò che gli cambio il colore punto set color lo farò diventare in trattamento che era quindi saliamo su a vedere treating quindi color code punto treating e poi dovrò settare il timeout del fatto che lui viene curato dopo un tot di tempo lui verrà curato e quindi può effettivamente uscire quindi devo schedulare l'evento finale che è l'evento treated che non ho ancora fatto ok questo evento treated verrà applicato dopo un certo periodo di tempo che dipende dal colore che aveva il paziente nel momento in cui è entrato nello studio quindi in realtà devo farlo prima di fare questo set color perché facendo set color sto dimenticando il colore che aveva in sala d'attesa per questo Mario che ci vede lungo mi ha detto ma teniamo i colori separati dagli stati non l'ho fatto adesso mi complico un po' la vita quindi sto dicendo la cosa essenziale sto dicendo che lui adesso è nello studio e sto controllando che il tempo necessario per curarlo quindi aggiungerò il fatto che lui viene curato schedulando l'evento add un nuovo evento ora plus il tipo di evento sarà event type punto treated e il paziente è il nostro primo della lista adesso l'unica differenza è che devo fare plus qualcosa e la durata di questo plus dipende dal colore che aveva quindi anche qua dovrò andare a controllare if primo punto get color punto equals color code punto white allora farò questa cosa qui aggiungendo il la duration del white altrimenti se è giallo altrimenti se è rosso yellow duration yellow cioè l'evento di treated di curato dipende dal colore che aveva ma in ogni caso sto sempre curando il signor primo ovviamente devo sto facendo due cose sto dicendo tu sei entrato in uno studio e ne uscirai dopo un certo periodo di tempo che dipende dal fatto che tu fossi prima bianco o fossi giallo o fossi rosso giustamente Giovanni sta anche dicendo guarda che devi ricordarti di aggiornare anche il numero di studi chiaro qui questo evento lo sto processando perché qualcuno mi ha detto che c'è uno studio libero ovviamente il numero di studi liberi adesso diminuisce perché ho ammesso una persona e quando è che aumenterà di nuovo il numero di studi liberi quando questa persona esce uscirà quindi all'evento di treated quindi qui ho l'ammissione di un paziente dalla lista attesa allo studio quando appunto c'è questo free studio quando si è liberato uno studio precedente poi avrò l'ultimo passaggio l'ultimo evento che mi manca che è quello di treated dove effettivamente il paziente è uscito allora in questo caso se il paziente è uscito cosa dovrò fare ricordarmi che è uscito quindi finalmente patient treated o finalmente ne ho guarito uno poi a questo punto al nostro paziente gli posso settare il colore a color code out la waiting room ci era già uscito prima quindi non è un problema e poi dovrò a questo punto dire che c'è uno studio libero in più perché il paziente è uscito e poiché c'è uno studio libero in più posso schedulare l'evento che dice chiamate qualcuno e quindi posso aggiungere la coda qadd new event del tipo adesso event type free studio e paziente non c'è nessuno perché non c'è nessun paziente di riferimento sull'evento free studio non so qual è il paziente che verrà chiamato quindi in questo caso quindi quando scatta il treated quindi il paziente è stato curato lo conto lo metto out mi ricordo che c'è uno studio libero in più rispetto a prima e e aggiungo a questo punto l'evento che subito dopo chiamerà in realtà prima avviene questo un paziente esce e poi avverrà free studio in cui si sceglie il prossimo paziente che deve entrare non lo togliamo da waiting room in treated perché da waiting room è uscito qua la waiting room esce qua sulla poll non dobbiamo fare un remove di forza perché è uscito per vie naturali perché era il primo il poll lo cancella l'evento della waiting room quindi già non è più nel waiting room ok se noi provassimo a fare questa simulazione supponendo che non cresci in realtà continuano a morirci tutti perché perché free studio non scatta mai vedete che free studio schedula treating treating scusate l'evento treated treated a sua volta schedula free studio si richiamano vicenda ma inizialmente nessuno mai li richiama cioè cosa succede visto che noi abbiamo collegato l'ingresso di un paziente dalla sala d'aspetto allo studio medico l'abbiamo collegato al fatto che sta uscendo un paziente dal studio medico e quindi quello studio medico si sta liberando all'inizio del mattino che gli studi medici sono tutti vuoti non c'è nessuno che esce e quindi non si potrà mai chiamare il primo paziente ok noi stiamo pensando a un medico che quando esce un paziente dice avanti il prossimo però lo sta dicendo solamente nel momento in cui esce un paziente se invece non esce il paziente quando è che il medico può chiamare qualcuno di nuovo ecco nel mondo reale cosa succede che ogni tanto dà un'occhiata e dice guarda io non c'è nessuno però è arrivato qualcuno lo chiamo il fatto di entrare in uno studio vuoto immaginiamo anche l'altro caso in cui esce il paziente non c'è nessuno in sala d'attesa noi abbiamo anche contato questo caso in cui non ci sia nessuno in lista d'attesa boh non faccio nulla e allora quello studio medico rimane vuoto va bene ovvio non c'è nessuno da chiamare rimane vuoto poi arriverà una persona quando arriva questa persona che possibilità di essere chiamata nessuno perché lo studio se il medico aspetta di diciamo svolgere le proprie attività solamente quando esce un paziente come faccio allora il meccanismo che potremmo fare potremmo aggiungere un meccanismo a tempo una sorta di timer che dice di tanto in tanto vado a vedere se periodicamente ok ogni minuto ogni 5 minuti ogni 10 minuti quello che volete voi vado a vedere se capita la situazione in cui ci sia almeno uno studio libero e almeno un paziente in lista d'attesa allora se capita questo genero un evento free studio ok genero un evento free studio aggiuntivo tra l'altro sono quelli quindi se è un po' come se ci fosse diciamo così la la segretaria dell'ufficio che dice guardi vada pure avanti perché il medico è libero non c'è nessuno dentro ok non perché sta uscendo qualcuno in quel momento ma perché tu sei arrivato dopo che il paziente era uscito con questo giochino qua stiamo aggiungendo degli eventi free studio in più e quindi ha ragione Alessandro che dice dobbiamo poi fare attenzione a non mandare più pazienti che non studi dobbiamo fare bene i conticini con i numeri di studi liberi Manuel dice lo potrei generare anche dopo ogni triage sì lo potrei generare dopo ogni triage dopo ogni morto dopo ogni evento potrei devo avere di sicuro un meccanismo che mi permette di riempire gli studi quando sono vuoti in condizioni diverse rispetto alla condizione di pieno carico per cui esce uno entra l'altro esce uno entra l'altro ovviamente ok allora Giorgia mi dice possiamo inizializzare tanti eventi free studio all'inizio della giornata sì si potrebbe anche fare però sono tutti eventi in cui magari se capitano questi eventi quando gli studi sono pieni sono eventi diciamo così fittizi ogni volta che si svuota la coda ogni volta che si svuota lo studio allora i criteri sono tanti i meccanismi sono tanti l'importante è essere sicuri di non dimenticare nessun caso particolare dobbiamo innescarlo inizialmente questo meccanismo e poi essere sicuri che quando si svuota di poterlo far ripartire allora quello che è venuto in mente a me il più semplice è un meccanismo a tempo cioè gestisco un tipo di evento in più che chiamo tick timer per controllare se ci sono studi vuoti liberi questo evento tick lo faccio come evento che si rigenera da solo ogni tot minuti diciamo 5 minuti una cosa di questo genere per cui se uno studio rimane vuoto non lo rimarrà per più di 5 minuti perché poi scatta il tick che va a vedere controllare e genera l'evento e l'ho fatto su un tipo di evento lo immagino su un tipo di evento separato altrimenti lo potete agganciare ad altri eventi come quello della triage sicuramente come quello degli vari timeout sicuramente allora quindi io l'ho aggiunto qua lo aggiungerei una cosa molto semplice un meccanismo parallelo ah no lo metto in fondo al case principale dove cosa devo fare se mi accorgo che il numero di studi è maggiore sui studios è maggiore di 0 c'è almeno uno studio libero e la waiting room non è vuota is empty no quindi not allora posso schedulare un evento di tipo free studio quindi abbiamo this.q.add new event al tempo attuale in questo istante qui event type .free studio nessun utente e poi questo evento tick si rigenera da solo quindi abbiamo this.q aggiungiamo un altro evento new event ora plus magari 5 minuti duration of minutes anche qua dovrei forse mettere una costante ma vabbè dai siamo duration of minutes 5 il tipo di evento è event type tick e l'utente non mi serve quindi anziché come suggeriva Giorgia inserire tantissimi eventi tic all'inizio del tempo ne inserisco uno e poi lui si auto rigenera da solo è solo per pigrizia non voglio inserire tutti all'inizio quindi questo tic lo dovrò iniziare inserire in fase di caricamento della della coda quindi torniamo su in init quando avevo inserito i pazienti inserito la coda inserito tutti i pazienti che arrivavano poi devo ancora inserire nella coda this.q add new event il primo tic al tempo no scusate non lo faccio lo faccio prima del while perché così ho l'ora di partenza ok quindi il primo evento che inserisco sarà un tic ora si che è inizialmente start time lo faccio fuori del while lo faccio una volta sola ora punto event type tic null quindi adesso sto generando degli eventi tipo free studio anche quando non stanno uscendo i pazienti devo fare attenzione perché può darsi che ci sia poi una coincidenza temporale tra io vado a vedere lo studio è vuoto poi subito dopo viene chiamato un paziente perché era già schedulato un free studio perché era uscito quello precedente quindi visto che sto aggiungendo degli eventi in più è sempre meglio fare un controllo in più sul free studio in cui vado a vedere se davvero se per caso free studios fosse zero esco non faccio niente perché sto aggiungendo degli eventi che poi potrebbero visto che nella coda degli eventi ci sono delle cose che sono già previste ma non sono ancora successe e soprattutto se sono coincidenti come tempo io non so quale delle due venga presa prima quindi può darsi che il tic si accorge che uno studio è vuoto ma in realtà è proprio in quell'istante uscito un paziente e quindi lui sta rischedulando il free studio è già stato schedulato ma non è ancora stato eseguito quindi mettiamo un controllo in più se per caso il free studio è zero allora esco se non è zero vuol dire che c'è almeno uno studio libero e allora quello lo occupo e lo decremento e poi quando l'utente ha il treating lo rincremento il numero di studi liberi così sono sicuro che questo return significa semplicemente che la process event ignora quell'evento quell'evento lì free studio è scattato in un momento in cui non serviva o in cui diciamo così era già stato si pensava che sarebbe potuto entrare qualcuno ma in realtà è entrato già qualcun altro per un altro motivo e allora niente fine è stato un evento in più break e return in questo caso sono equivalenti nel senso che break mi farebbe uscire dallo switch ok però dopo lo switch non ho niente ho semplicemente la fine della funzione e quindi facendo return esco direttamente dalla funzione non cambia nulla p e null quando elaboro il primo evento che allora facciamolo eseguire così vediamo subito qual è il problema mi dice null pointer qua ah beh certo perché in questo caso ho inserito degli eventi e che hanno anche un paziente null e quindi in questo caso qua non posso non posso estrarre il colore si può riassumere con che palle però dobbiamo in qualche modo quando è che usiamo il colore allora lo usiamo qui e basta e allora facciamo così hopla e lo inseriamo solamente qua e qua siamo in time out e quindi il paziente ci sarà riproviamoci qui qui è successo qualcosa di brutto direi stoppiamo sta roba qua ah beh certo qui ha simulato un po' di cose e poi è andato avanti perché l'evento tick viene generato anche superato alle ore 20 cioè devo fare in modo che il tick venga generato solamente se se sono ancora se lo studio è ancora aperto ok quindi questo qua del free studio va bene e però poi l'evento del nuovo tick lo faccio solamente se sono ancora dentro lo studio chiuso nell'orario di apertura quindi if l'evento era ora before is before l'ora di chiusura quindi this.endtime allora se allora aggiungo il prossimo tick se invece ho raggiunto già l'ora di chiusura non faccio nessun tick non vado il medico va a casa e non prende più nulla perché altrimenti come abbiamo visto va avanti all'infinito perché i pazienti sono finiti ma lui continua a fare dei tick a vuoto ok allora vediamo un po' adesso cosa sta succedendo allora a parte i tick ci sono i vari pazienti vediamo cosa succede il paziente zero arriva triage treating e poi paziente zero num uguale zero dove è finito non c'è l'evento treated num uguale zero cerchiamo num uguale zero eccolo qua out al 905 out il paziente 3 0 0 il 2 che dovrebbe essere un rosso allora lui arriva alle 8.10 triage alle 8.15 treated alle 8.45 e out sempre alle 8.45 type uguale treated type uguale time ah ok ecco qui ci sono dei messaggi d'errore perché questo è un paziente rosso aveva un time out e quando è scattato il time out in realtà la persona era già in treating era già in cura perché quello che non abbiamo fatto è di ricordarci che quando io setto un time out poi questo time out può scattare e quindi vado da giallo divento rosso ad esempio da rosso divento morto ma può darsi che nel frattempo sia scattato free studio e io sia riuscito ad entrare allora può capitare quello che in realtà non pensavamo che capitasse abbiamo messo l'errore apposta ma adesso ci rendiamo conto che in realtà è un caso normale che può capitare del fatto che quando scatta un time out il paziente non sia più in waiting room allora se il paziente non è più in waiting room vuol dire che quel time out è una roba vecchia ormai non vale più possiamo fare lo sforzo diciamo così quando togliamo un paziente dalla waiting room di andare a vedere se c'era un evento time out e cancellarlo oppure semplicemente quando mi arriva lo ignoro se il paziente non è più in waiting room quindi non era white o yellow oppure red vuol dire che non è più in waiting room e quindi questo qua l'abbiamo stampato come errore ma in realtà non è un errore è un time out che avevamo previsto nel caso di cui non fosse chiamato ma in realtà è stato chiamato ok quindi in realtà questo togliamo pure il messaggio di errore perché ci siamo accorti che esiste questo caso di un time out previsto ma quando scatta non ci sono più le condizioni che lo rendono valido e allora lo devo tranquillamente ignorare Alessandro mi dice ancora mi scusi ma penso di aver preso un passaggio noi aggiungiamo gli eventi di time out quando arriva un paziente ma poi non li rimuoviamo nel caso che si è trattato prima del time out esatto quella è esattamente la stessa cosa non li rimuoviamo e quando scattano li ignoriamo li posso ignorare ok non sto facendo nulla di male se volessi se non vi piace questa soluzione in cui quando un evento avevo previsto nel momento in cui scatta non serve più allora lo ignoro perché non serve più perché non sono più in lista d'attesa se non vi piace questa soluzione allora dovete andare però un pochino più complicato andarvi a cercare nella lista d'attesa qual è l'evento che ha quel paziente l'evento di tipo time out che ha quel paziente e cancellare dalla lista d'attesa esattamente quell'evento lì che è un lavoro andare a a estrarre buttare via un evento che è schedulato è abbastanza diciamo così macchinoso perché devo andare dovrei esattamente avere i valori di quell'evento per cancellare l'oggetto quindi a volte molto spesso si lasciano così quando scatta faccio magari un controllo in più per dire ancora senso trattarlo sì altrimenti lo ignoro come anche avevamo fatto questo tic abbiamo detto genero un free studio ma se poi quando arrivo a free studio mi accorgo che le condizioni sono cambiate ad esempio i studi sono già tutti pieni lo ignoro paziente 2 passa da treating senza passare dal red la paziente 2 dunque doveva essere un rosso un numero uguale 2 andiamo dall'inizio arrival 8.10 triage 8.15 treated 8.45 già treated l'evento alle 8.45 quindi come ha fatto a diventare treated che qui c'è qualche baco direi perché dovrebbe prima diventare treating dovrebbe diventare free studio ah no sapete perché perché è uno di questi free studio che c'erano in mezzo in cui non stiamo scrivendo chi viene chiamato perché l'evento free studio dice chiama qualcuno ma noi non sappiamo chi in uno di questi free studio viene chiamato il paziente 2 che quindi poi diventerà treated ok quindi l'evento free studio non ha nell'evento ovviamente quando ho schedulato l'evento non sapevo ancora chi sarebbe dovuto entrare e quindi qua visto che sto stampando l'evento di ingresso e non il paziente che ho scelto mi sono perso quel numero uguale 2 ma c'è ok Giorgia no posso tranquillizzarti che il tempo per l'esame teniamo conto del tempo che avete l'esame nel definire la difficoltà dell'esercizio quindi questo era un esercizio abbastanza complicato perché come abbiamo visto non era particolarmente diciamo vogliamo difficile ma c'erano molti casi a cui pensare molti casi particolari a cui pensare ma facendoli insieme proprio ci ha permesso di ragionare su queste sulle cose che possono succedere in un certo senso in una cosa di questo genere gli esercizi d'esame se li guardate sono più semplici ok noi siamo alla fine del tempo in realtà però avevo promesso ai rappresentanti degli studenti che volevano fare un minimo di promozione di fare un piccolo intervento quindi io chiuderei qua la lezione mentre faccio il solito commit posso lasciare direttamente a loro dovresti essere in grado di che faccio che faccio